E' un'esperienza che non si può fare insieme. Apriamo un filone nel dialogo. Voglio complimentarvi perché è un bellissimo progetto e peraltro appunto in grande risonanza con un filone di ricerca che al maxi stiamo sviluppando in questo momento proprio contestualmente al vostro festival. Noi ospitiamo una mostra di video artisti coreani da Namjoon Paik in poi che veramente dialoga con alcune delle opere che ho visto qui oggi. Io penso che questo terreno di incontro tra nuove tecnologie, makers, artisti è il terreno fertile del futuro, la cui bisogna guardare senza superficialità, profondendo neanche bene i linguaggi. Poi è chiaro che dietro un artista, dietro qualunque processo creativo, qualunque sia il mezzo utilizzato c'è l'urgenza poetica, espressiva, però questi mezzi aprono praterie infinite. Mi farebbe molto piacere continuare e rafforzare questa relazione con la fondazione Mondo Digitale per vedere cosa possiamo fare insieme in futuro.